Caro Babbo Natale, quest'anno non voglio regali, ma vorrei guarire per tornare a giocare con i miei amici. Ero così concentrato a consegnare regali e non mi sono mai chiesto di cosa hanno bisogno le persone che non mi scrivano mai. Quali sono i veri bisogni di esseri umani? Eccomi con i dati Babbo Natale. Che me dici dei bambini del mondo? Ci sono 2 miliardi e 200 milioni di bambini del mondo, il 15% di loro svolge lavori pesanti. Questo video, questo appello fatto da un Babbo Natale un po' speciale, proprio per la misericordia, che appunto chiede a chi volesse diventare volontario di farlo nel nuovo anno. Sì, questo è, credo, almeno per me è un bel video, quindi è fatto. Abbiamo necessità di giovani, abbiamo necessità di tanti giovani, di volontari, perché la popolazione invecchia, quindi abbiamo necessità. I giovani perché l'emergenza non la possono fare le persone anziane, anche perché devono essere preparate e ci vuole gente giovane. E per tante cose, quindi la misericordia di Arezzo in particolare, ma tutte le misericordie, stanno facendo dei passi, quindi oltre quello che oggi facciamo. Si cerca di fare il meglio e portare anche tante cose, anche alle persone più bisognose, agli anziani in maggior parte. Quindi l'assistenza, stiamo pensando all'assistenza domiciliare, stiamo pensando un pochino come avvicinare queste persone anziane, anche per la solitudine stessa. Non tutti si possono permettere anche di andare nelle case di riposo, perché specialmente per un autosufficiente è molto, molto così. Quindi è un appello ai giovani. Un appello ai giovani, speriamo che quindi, che almeno qualcuno arrivi e credo che poi dopo ci si sta bene. Quando doniamo un qualche cosa, un po' di tempo nostro agli altri, quindi poi alla fine la giornata è più bella. E soprattutto di compagnia. Ci servono più aiutanti per pensare anche ai bambini. Persone disabili, infermi, anziani. Abbiamo bisogno di più aiutanti. Sì, forse si ha trovato più per aiutarci, Babbo Natale. Wow, e questo bisogno, perché non ho mai detto prima. Perché siamo volontari. 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 Volontari.